Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dello spaventoso incidente dello scorso sabato a Pian di Scò quando una tredicenne era caduto nella torrente dopo che la staccionata del ponte Annibale aveva ceduto. Proseguono le indagini dei carabinieri e della procura di Arezzo che ha aperto un'inchiesta al momento a carico di ignoti mentre il giovane è ancora ricoverato in rianimazione al mayor di Firenze ma sarebbe stabile. Non è più in imminente pericolo di vita il tredicenne che sabato scorso era precipitato per 5 metri nel torrente Resco dopo che aveva ceduto la staccionata del ponte Annibale nel comune di Castelfranco Pian di Scò alla quale si era appena appoggiato. Il ragazzo resta ricoverato in coma farmacologico al mayor di Firenze ma in condizioni stazionarie. Il tredicenne lo scorso sabato aveva preso parte ad un'escursione organizzata da una parrocchia di rifredi a lanciare l'allarme attivando immediatamente la macchina dei soccorsi erano stati gli accompagnatori. La procura di Arezzo intanto ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni gravissime al momento senza indagati. Si dovrà cercare di comprendere se ci siano eventuali responsabilità, ovvero imperizie, imprudenze e negligenze in osservanze di leggi o regolamenti. Dovrà poi essere stabilito con certezza di chi siano le competenze su quel ponte presente in un territorio che sembrerebbe ricadere nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Il sindaco Enzo Cacioli al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. Sembra che comunque nessuno avesse mai segnalato che la staccionata, adesso sbarrata da una transenne e da un cartello di sequestro, fosse pericolante. Il sequestro adesso è stato convalidato dal PM Emanuela Greco, titolare dell'inchiesta. È stato colpito da una daspo di tre anni per una bravata con la quale ha spaventato i residenti di Subbiano, il ventenne originario di Capolona, che la scorsa settimana si è girato nelle strade del comune casentinese con una pistola. Poi si è scoperto che era una scacciacani, esibendola in pubblico e minacciando chi incontrava, ma non solo, ha anche realizzato un video che è stato poi diffuso sulle sue pagine social. Si tratterebbe dell'ultimo caso di una serie che sta preoccupando particolarmente i residenti della zona, che avevano fatto molte segnalazioni e da qui l'intervento nelle scorse serie dei carabinieri. Una tragedia sfiorata invece alle porte di Arezzo, all'altezza della ponte di Pratantico, sventata grazie al pronto intervento di due agenti di prossimità in forza alla Polizia Municipale e Aretina. È successo ieri mattina, quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione della presenza di un giovane che stava pericolosamente sporcendosi oltre la balaustra del ponte in evidente stato di alterazione. Gli agenti, giunti subito sul luogo, sono intervenuti per mettere in sicurezza il ragazzo e hanno attivato l'emergenza urgenza e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso con l'ambulanza per alcuni accertamenti. La Valtiberina invece è colpita da una raffica di furti compiuti o tentati all'interno delle abitazioni. Episodi che risalgono alla serata dello scorso martedì e che si sono tutti consumati nella stessa zona, tra via Macchiavelli e via Guicciardini, poco dopo l'imbrunire dalle 22 in poi. Quattro colpi in totale, solo uno portato a termine, circa 400 euro tra oro e banconote. I malviventi sono riusciti a portare via poi la fuga per i campi. A seguito delle denunce sport, i carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno avviato un'indagine ed i colpi potrebbero essere ad opera degli stessi malviventi. Adesso ci spostiamo a Talla, dove abbiamo raccolto la denuncia della sindaca che punta il dito contro la gestione dei richiedenti asilo. È dal 2014 che il comune di Talla svolge il proprio ruolo nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il problema è che in questo specifico momento si stanno raggiungendo dei numeri, in particolare poi con un'alta concentrazione in una frazione montana, che è la frazione di Faltona, veramente eccessivi. Al momento ci sono 38 ospiti nel nostro territorio, che sono veramente tanti. Noi siamo un comune di poco più di 900 abitanti. La denuncia è di Eleonora Ducci, sindaco di Talla, un comune dell'Alto Casentino. Secondo la Ducci, 38 richiedenti asilo sono un numero troppo alto per parlare di accoglienza diffusa. Io sono presidente di una unione dei comuni, che è capofila di un progetto SPRAR a livello provinciale. Proprio questa mattina abbiamo deciso di partecipare ad un bando per un progetto FAMI, per la fuoriuscita delle persone dai progetti SAI. Quindi sicuramente il nostro impegno e la nostra posizione politica rispetto al tema dell'accoglienza è ben preciso, ma le cose devono essere fatte per bene. Devono essere fatte per bene soprattutto e in primo luogo dallo Stato e dal Governo, da chi lo rappresenta sul territorio. Quindi davvero è il momento di gestire questa cosa in maniera diversa. Non si può pensare che Talla, così come altri comuni altrettanto piccoli, facciano una parte così gravosa nel tema dell'accoglienza. Sono poche le persone che riusciamo ad incontrare una volta arrivati nella frazione di Faltona. A quest'ora la maggior parte dei residenti è al lavoro, ma tra coloro che riusciamo ad incontrare non c'è chi parla di problemi di convivenza. Veramente salutano, sono abbastanza gentili, vengono ai barri, si servono anche ai barri, giocano a ping pong con altri bambini del posto. È che non parlano naturalmente italiano, di conseguenza è un po' difficile integrarsi a quella maniera. Certo, il numero di richiedenti asilo ospitati in un fazzoletto di terra così piccolo, afferma una residente, è indubbiamente importante. Il livello di integrazione probabilmente gli farebbe più comodo stare in cittadine servite da più servizi pubblici, però dopo, per quello che mi riguarda, a me noia non me la danno, insomma, nel senso loro fanno il suo, si comportano bene. Quando c'era la casa famiglia che c'erano ragazzi stranieri, gli fu fatto fare un corso di italiano durante l'estate per poter fare in modo poi che a settembre i ragazzi potessero accedere anche alle scuole. Lei dice che così non c'è integrazione. Così loro non parlano perché sono sempre soli, costantemente, non c'è mai nessuno qua su da loro e se nessuno gli insegna l'italiano non è che dalla sera alla mattina questi parlano italiano e possono imparare a conversare con tutti, capito? Estra, dopo il ritorno alla guida di Francesco Macri, è stata convocata ad Arezzo la prima riunione del CDA. Lavoruta ad Arezzo, Francesco Macri, la prima assemblea dei soci Estra, che lo ha visto tornare alla carica di presidente esecutivo. Dopo le vicende giudiziarie, Macri è stato assolto in primo grado con formula piena, il presidente dà il via ad un nuovo corso per il colosso del settore energetico. Sì, ho fatto in modo che il primo CDA si facesse a Arezzo, un segnale ai nostri territori, ai soci originari, gireremo tutte le sedi più importanti, Ancona, Siena e Prato che è quella più importante. È un primo CDA che segna un nuovo corso, abbiamo incontrato anche i dipendenti e abbiamo resi partecipi di questo nuovo sentiero nel segno della continuità ma anche dell'innovazione e dell'integrazione. Giusto partire da Arezzo, dove il presidente Francesco Macri è quello che rappresenta anche la continuità tra il vecchio corso e questo nuovo consiglio di amministrazione. Noi crediamo molto in quella che è la realtà di Estra, sicuramente un perno per tutto lo sviluppo dei servizi pubblici in Toscana. Sapete, noi come espressione del socio molti utility ormai siamo impegnati in questo, nel portare avanti un progetto di aggregazione delle aziende, dei servizi pubblici toscane per creare un soggetto che possa essere più adeguato a affrontare le sfide che ormai oggi sono quotidiane per quanto riguarda i temi legati alla transizione ecologica, alla necessità di una diversificazione energetica, di una razionalizzazione e sviluppo di quello che è il sistema dell'acqua nel nostro paese. Quindi per noi diventa fondamentale avere Estra a partecipare a questo progetto. Partono oggi i saldi estivi, anche ad Arezzo sono scattati infatti da questa mattina i ribassi che dureranno per due mesi. In Toscana sono attese vendite per oltre 200 milioni di euro e in città come ogni anno torna anche la notte bianca dello shopping. 216 milioni è quanto spenderanno i toscani durante i saldi estivi 2023 iniziati proprio oggi, secondo le previsioni di ConfCommercio Toscana. Le vendite di fine stagione dureranno 60 giorni e ad Arezzo la partenza come sempre è in concomitanza con shopping sotto le stelle, la notte bianca degli acquisti quest'anno fissate in un giorno feriale anziché di sabato come al solito. Tornando alle stime è il direttore di ConfCommercio Toscana ad esaminare nel dettaglio le previsioni. Il budget che le famiglie toscane vogliono destinare agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro, spiega Franco Marinoni. Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia quando si aggirava attorno ai 180 euro. Ancora, però, aggiunge, non siamo tornati ai livelli pre-pandemia. Alte anche le attese dei negozianti. Viviamo un momento stranissimo in cui è difficile capire comportamenti di acquisto dei consumatori, sottolinea il presidente regionale della federazione Moda Italia ConfCommercio Paolo Mantovani. Da una parte si avverte grande voglia di fare acquisti, ma dall'altra c'è continua preoccupazione per i problemi che attanagliano l'economia tra inflazioni e rincari. Confeser Centi invece stima una spesa pro capite di 170 euro in linea con lo scorso anno. Saranno le donne a spendere di più rispetto agli uomini, spiega la direttrice Valeria Alvisi. Si cercano capi già inseriti da qualche giorno nella lista dei desideri e degli articoli da acquistare. L'appello dell'Associazione di Categoria di Via Fiorentina, infine, è quello di frequentare i negozi nei centri storici e sotto casa un valore aggiunto conclude per il territorio. Sentiamo adesso l'appello della presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, lanciato da Roma, dove si è svolta l'Assemblea Nazionale di Ambi. Abbiamo un paradosso, un paradosso importante, che è quello di avere una diga che invasa anche una quantità di acqua importante perché è il più grande invaso dell'Italia centrale, eppure questa acqua ancora non arriva alle aziende agricole della Val di Chiana, Rettina e Senese, che sono quelle aziende più produttive che paradossalmente hanno più bisogno di quella risorsa per continuare a lavorare in quei territori, a investire, a produrre, a creare ricchezza. È dall'Assemblea Nazionale Ambi che la presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno lancia un nuovo appello per superare quello che da tempo definisce un vero e proprio paradosso, quello relativo alla diga di Montedoglio. Credo che noi dal basso dobbiamo con forza dire al Governo nazionale guardate che in questo territorio abbiamo questo paradosso, dateci una mano a superarlo perché qui più che mai c'è bisogno di realizzare queste infrastrutture e dare una mano alle nostre imprese. La due giorni della Bonifica a Roma alla presenza anche dei rappresentanti del Governo, delle istituzioni, del mondo politico, sociale ed economico, si è snodata attorno a questo binomio disponibilità di acqua e sicurezza dei territori che i cambiamenti climatici hanno trasformato nelle due facce della stessa medaglia. Come si fa a lavorare sulla prevenzione? Da una parte, e in Toscana lo facciamo molto bene, su tutta quella che è la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua. I Consorzi di Bonifica in Toscana sono ormai molto organizzati in questo ma c'è bisogno anche di nuove opere per la messa in sicurezza dei nostri territori per renderli più resilienti a questi cambiamenti climatici che vedono delle precipitazioni sempre molto più intense e concentrate in poco tempo. Anche sul fronte della raccolta delle acque il sistema della Bonifica ha idee e soluzioni. Il nostro paese ha bisogno anche di fare dei grandi invasi, quindi ha bisogno di fare anche delle dighe che consentono da una parte di mitigare il rischio idraulico, che significa invasare l'acqua, trattenerla nei momenti in cui piove tanto per poi renderla alla comunità e al mondo agricolo nei lunghi momenti siccitosi. È stata presentata l'edizione 2023 di Agrientour, la Kermes dedicata alle strutture ricettive di campagna e al turismo rurale, che tornerà all'Arezzo Fiere Congressi il prossimo novembre. Le innovazioni nel mondo della vita di campagna e nell'attività agricola, ma anche esperienza, contatto con la natura in una logica di wellness, green e outdoor. Insomma, l'innovazione e la sostenibilità per una nuova generazione di agriturismo al centro della prossima edizione di Agrientour. Viviamo tempi nuovi anche dopo la pandemia, i valori anche di tutti si sono un po' modificati. C'è una ricerca per un ritorno a qualcosa di più naturale anche nel tempo che uno può passare per le vacanze, c'è la riscoperta di percorsi gastronomici, di tutto quello che è natura oggi interessa, vivere all'aria aperta. A maggior ragione Agrientour si rinnova e lo fa cambiando completamente format anche al suo interno. Vedremo un momento veramente molto professionalizzante per gli agriturismi che vorranno confrontarsi con buyers provenienti un po' da tutto il mondo e poi ci sarà nei due giorni successivi un momento aperto al pubblico. Abbineremo, come ormai di consueto, anche l'evento Passione in Fiera, quindi con tutti gli animali da cortile e un momento anche per avvicinare anche le famiglie alla realtà sia dell'agriturismo ma anche a quella di una natura intesa a 360 gradi. La ventunesima edizione della manifestazione, dedicata alle strutture ricettive di campagna e al turismo rurale tornerà all'Arezzo Fiera e i congressi dal 10 al 12 novembre prossimi. Questo settore, quello dell'agriturismo, è uno dei nostri fiori all'occhiello che ovviamente riesce meglio di ogni altro a raccontare i nostri territori che hanno bisogno di essere presentati nella loro totalità, quindi non solo sotto l'aspetto dell'accoglienza ma anche per le produzioni, dell'agroalimentare, quelle artigianali, quelle culturali che tutti insieme riescono a formare l'offerta formativa, sempre di più interessante anche per i buyer e quindi per le grandi dinamiche internazionali. A Castiglion Fiorentino è arrivata la street art a Fiorenzo con il murales realizzato in via Corinto Corinti, località Boscatello, dall'artista Urto sulla cabina e distribuzione, la società del gruppo Enel, grazie alla collaborazione tra l'azienda, l'associazione culturale Don Quixote, sportiva Boscatello e l'amministrazione comunale. L'opera è stata inaugurata questa mattina e si tratta del primo intervento di street art nel territorio comunale, deve il suo nome e alle origini latine, Florence, che significa fiorire. A realizzarla appunto Urto, uno street artist che arriva da Catanzaro ma che opera da molti anni ormai sul territorio di Firenze. E adesso ci spostiamo al Parco del Prato dove prosegue il Mango Music Fest. Dopo le prime due serate con un grande successo di pubblico, stasera Giancane De Zen Circus sul palco, ma è tutto già pronto anche per la serata di domani, quando arriveranno Baustelle e Comacose. Protagonisti della serata di ieri invece, Collazio e Rosa Chemical. Entra nel vivo il Mango Music Fest e cala i primi assi di Sanremo. Sul palco del Prato, nella seconda notte, i live di Rosa Chemical e la tappa a retina del Blaster Summer Tour dei Collazio. Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, è entrato nel campionario estivo con Bell'Uguaglione, un brano che rovescia il modello classico di Osserracino. Ancora una volta l'artista invita ad essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte e dalla società, proprio come in Made in Italy, il brano serremese. Prima di Rosa Chemical, sul palco del Prato, uno degli assi della scuderia a retina V-Dorm, al Mango Festival, sono infatti sbarcati con l'azio. Freschi della prima esperienza sul palco dell'Arison e del primo album, hanno appena rilasciato anche il nuovo singolo, in fondo al blu. C'è stato un sacco di preparazione, perché ci siamo fatti una testa grossa nella preparazione della cosa, però poi abbiamo vissuto quel palco come viviamo gli altri palchi e forse questa è stata la nostra forza, andare lì, divertirci e far divertire chi ci ascolta. Dopo Sanremo, allora, diciamo che è stato uno shock, ovviamente, cioè è stata una cosa di cui non ci siamo resi bene conto subito, quindi c'è stato un momento, diciamo, di riassestamento in cui ci siamo ricapiti, siamo dovuti ricapire, però ci è servito perché alla fine siamo arrivati a quello che stiamo costruendo adesso che secondo me sarà un nuovo step, una cosa ancora successiva, ancora più bella. Restiamo nel cuore della città, Casa Bruschi torna all'iniziativa Yoga ed Arte organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con il maestro Giuseppe Storani dopo il successo degli anni scorsi. La splendida vista sulla pieve, che si gode dalle terrazze del museo, farà da sfondo i quattro appuntamenti con le lezioni di yoga, il 13, il 20, il 27 luglio e il 3 agosto. Eventi creati per suscitare emozioni uniche. Il primo appuntamento è giovedì 13 alle 20 e 30 con una novità, una lezione di yoga per genitori e figli che nasce dall'idea di creare un momento di divertimento e complicità per bambini e genitori. E adesso passiamo alla pagina dello sport. Sport, socialità e solidarietà infatti si uniscono nella 24 ore del tennis Giotto. venerdì 14 e sabato 15 torna a rinnovarsi uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate del Circolo Aretino, che si svilupperà attraverso due giornate ricche di iniziative animate da una finalità benefica. L'intero ricavato sarà infatti devoluto a favore di casa Tevenin. La 24 ore, nata nel 2013, giunta al suo decimo anno, prenderà il via alle 19 del 14 luglio, quando inizieranno tutti i tornei. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.